Sì, ma guarda il cane del dragostrino, è qui. Picca, non faccia queste cose, non faccia questa cosa, non la pago, eh. Due milioni in banca, ma me ne batto, si ricordi, eh, signor Picca. Mi raccomando, mi stanno chiamando. Chi è che... No, non posso. Non posso? Sto lavorando. Dai. Non posso? Non posso. Dopo, dai. Waterpigs, dai. Non posso, posso. Scusate! Eccoci, grazie patatine! Grazie, cento patatine, gentilissimo. Grazie! Grazie mille per l'euro, grazie mille... Oh, certo che potresti streamare un po' di meno, eh. Guarda Greenbaud. Ma lui fa il circo, eh. Ma lui fa il circo, eh. Facessi anche io 10.000 aspecta live e non streamerei 8 ore. Lui fa il circo, è diverso. Vabbè, comunque tra poco è pronto il pranzo. Guarda che sto mettendo su le uova. BASTA! Queste uova! No, Pami, no! Sto lavorando! No, Pami, dopo... No, basta! No, no, Pami, Pami, Pami! Pami! Tutto a posto? Mi sentite? Mi sentite? Non li riprenderemo mai! Non li riprenderemo mai! Mi faccio un culo così la domenica mattina che non ci sta nessuno! Per quanto guadano di merda, non le facciamo più! Quando lavoro? Il forno, il forno, resta spento! Ma ciao ragazzi, buongiorno! Buongiorno a tutti! Eccoci qua, bentornati! Grazie, Drago Freebooter 2! Ti seguo! Bomba comunque, grazie del support!